Ciao piccio, sono Lauridis e oggi siamo su Dark Souls 2, Scholar of the First Scene. E che dire, perché lo sto facendo? Intanto perché è uscito ora e io non avevo mai giocato a Dark Souls 2. L'ho dato che è uscita la versione nuova con le Super DirectX, con 60 FPS, con 1080p, con cazzi e mazzi. Ho detto prendiamolo e facciamoci una serie. Perché? Perché è uscito Bloodborne. Bloodborne per PC non è uscito e io ci sono, io resto male e io gioco a Dark Souls 2. Ecco. Ed eccoci qua, subito dopo il video iniziale che salterò perché già il gioco è uscito, quindi non te ne frega niente, già lo conosci. Eeeh, cosa dire? Sono gasatissimo, l'ho visto ora ed è una figata quel video. Allora, il gioco dovrebbe essere fluidissimo a 60 FPS e in più... Allora io non so niente di questo... Calmati. Allora io di questo gioco non so niente. Ciao, Belu! Che seduci? Che saporito, eh, giochiamo insieme qua. Che grazie, guarda che bellino. Va bene, devo andare qui. Buongiorno, è parte la creazione. Ricorda il tuo nome. Devo scriverlo con la tastiera? Lauridis. Sono bravo. Lauridis. Ok. 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 Col mouse. Affanculo. Ok. Classe. Cosa facciamo? Perché io sono avviato Dark Souls 1 e nell'1 io ho fatto il guerriero. Dai, facciamo il guerriero. Va bene. Dono. Non so cosa facciano, quindi scelgo quello che mi sembra più figo e forse il più inutile, quindi il seme di albero dei giganti. Attenzione, 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 questi capelli stanno di tascio, ma ci potrebbe stare. Ok, ci siamo. Vai. Ma perché faccio questo? Perché non mi fermi quando faccio queste cose? E si parte, col primo farò. Oh mio Dio. Oh Dio santo. Oh. Oh, scusa. Eh? Capelli fosforescenti. È fantastica questa cosa. Dacci un liscio. Dacci un setoso. Che cazzo vogliono? Quagalo sicuro, quagalo sicuro, quagalo sicuro. Ah. Ok, ce lo fa. Oh mio Dio. Ma però questi capelli verdi fosforescenti erano loro perché? No. 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 Ok. Non c'è il calcio in Dark Souls 2. Ma dove sono? Già nel tutorial mi sono perso. Andare di qua? Questo deve morire. Camminiamo, andiamo di qua. Ho finito il tutorial. Uh. Bellissimo. Bellissimo. I miei occhi. Magiula. Mamma. Fantastica. Allora. Che devo fare? Non so come... Ma si sta già rompendo la spada. Qual è la durabilità? Ah. Però c'è il teletrasporto in Dark Souls 2. Me l'avevo scordato. Questo lo sapevo perché. Ho detto in una recensione. Aiutami ad aprire questa porta. Mi serve la chiave. Sì, ma... Diciamo vero. Cioè, basta che... Da qua puoi entrare. Lascia... Cioè... Allunga il braccio e prendi tutto. Cretino. So che l'avranno fatta in mille sta battuta. Però... Questa è sparta. Io dovrei dirlo urla. Questo. È che non si può fare il calcio. Questo. Eh. Un vaso. Che cazzo è? Ma che sei dolci? E' grande. Segreto sco... Cioè, segreto. Una stronzata però. Che dolci. Che dolci. Ma vaff... Oh, pezzi. Oh. Ma vaffanculo. Porcellini di merda. Ma sono fortissimi. Che cazzo è? No, lasciatemi in pace. Porcellini di merda. Ma poi sarebbe che devo combattere tutte le porcellini di merda. Ma io lo uccido quello. Vaffanculo. Purceddu. Uno lo voglio uccidere. Un bel principio. È morto uno. Che mi dai? Stringi patto. No, no. Aspetta. No, mi hanno chiuso. Sono spartani. Mi hanno chiuso alle tre. Affanculo. L'ho saltati. Là c'è un patto. E mi dice ti porterà verso un arduo cammino. Che devo fare? Tu lo conosci quel patto? Aiutami. Di qua. Accendo torcia. E accendiamola. Sì, meno male che l'ho accesa perché non vedo Nugates. No. No. E pass. Dove cazzo sono? Foresta e giganti caduti. Ok, ok, ok. Quello cosa è? Ma... No, io non l'attacco. Quello mi fa il culo. Quanto mi dà ansia quelli proprio tomo di merda. Arco. L'ho visto. Stronzo. Che cazzo? Quanti sono? Qual cazzo? No, no, no. No, no. Che cazzo? Eh, 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 eh. Le, 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 le. Che cazzo è successo? Via. Corri, 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 corri. Corri. Non c'ho vita. Come sono rimasto in vita? Non lo so. Corri. Porca troia. Affanculo. Oh, ma stiamo schi... Via, 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 via. Ok, sono troppi. Qua posso farcelo. Quanti ne fai? Eh, muori. Affanculo. Uno, due. E c'è il terzo? Non c'è il terzo? Tu muori. Porca miseria quanto sono str... Eh, mu... Porca mi... Uh. Eh, muori. Ma vaffanculo. Ma che imboscata era? Porca di quella miseria. Porca miseria che è imboscata che hanno fatto. Che stronzi. Intanto ho visto un falò là. Andiamo al falò. Vediamo se si ripara la spada? Sì, si è riparata. Perfetto. I nemici ricompaiono. Guarda che il balletto fa... Il vento sincronito è bellissimo. E qua ce l'abbiamo fatto. Allora. Aspetta. Qualcuno si alza. Qui qualcuno si alza. Lo sapevo. Veloce, veloce, ve giù. Mi serve un'arma. Questa fa schifo. Mi serve un'arma. Porca miseria. Tu vieni. Non rompro le palpe. Sei spezzata, non faccio più danno. Che cazzo era? Chi aveva tirato quella bomba? Qualcuno aveva tirato una bomba. Ma da dove? È lui. Dov'è? Chi è? È quel pezzo di merda. Guarda che... E poi che buona affan... Via. Ah, posso salire. Pezzo di merda. Sto arrivando. Ti spacco il culo, pezzo. Che cazzo è? Salve. Oh, la mia faccia. Pezzo di merda. Non ti permetti. Non mi devi lanciare. Mo, cadi. Pezzo di merda. Non è morto. Ma va. Posso fare gli attacco in caduta, però. Ce la faccio? Se non è sì. Vediamo. Sono un idiota. Sono un idiota. Eh, qua si può lasciare. Forse sì. Vediamo. Intanto devo prendermi le anime. Sto facendo tante di quelle cazzate, ma tante. Porca miseria c'è questo qua. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh Cristo. Sì, vabbè. Ci sentivo pure mia nonna. Vabbè, ce la faccio. Con calma ce la faccio. Non ce la farò mai. Quanti cazzo so. Ma stiamo scherzando. Pure con la bomba mi ha preso perché mi sono fermato l'albracere. Ma vaffanculo. Allora. Un altro ne ho fatto alzare. Oh cazzo. Allora posso salire le scale, però no? E se salgo le scale mi conviene salire le scale. Quanti. Ma guarda quanti. Scusi, permesso. Posso passare. Eh, devo fare questa cosa. Devo farli salire. E ucciderli a uno a uno. Per favore. Verrà. C'è il tempo per tutti. Un attimo. Salite con calma. Dove sono gli altri? Guarda quanti cazzo sono. Si sono bloccati di quanti sono. Grandissimo pezzo di merda che non sei altro. Si è proprio faccia di cazzo. Oia, quindi abbiamo scoperto insieme che il rush non conviene tantissimo. Devo scendere e rotolare subito. Veloce, veloce, veloce. Rotola. Infame che non sei altro. No. Oh mio Dio. Backstab, bitch. Perché sono... Ma sono cambiato. Ah, perché sono morto. Ah, è anche diminuita la vita totale, effettivamente. E perché? Quindi mi punisce per ogni morte che faccio? Però è figo così, mezzo morto. Che fa quello? Ma sono ritardati in sto gioco? Vaffanculo. Dammi la tua spada. Ah, ma non c'è il ragdoll. Non c'è, no. Non posso... Tutto il mio spasso i nemici. C'è la nebbia. Che devo fare? Ci passo attraverso. È un boss? Non lo so. Non è un boss. Perfetto. Io ho paura. Ah, beh, è lui. Sono due. Eh, lo sa... Lo sapevo. Proprio lo sapevo. Lo senti... Oh, questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo. Cristo. Tu mori. No. Oh, porca troia. Uno. Due. C'è il terzo. No. Quanto siete bastardi. Tu dove sei salito? Mori. Come ho getto il ro... Eh, che... Tutto rotto c'ho. Ma come cazzo si fa a combattere in sto gioco? Non c'ho armi. Ah, no. Calmo, calmo, Lauridis. Calmo. Ora. Ora il cazzo. Gli attacchi sono forti. Gli attacchi sono forti. È rotto le palle. Ok. Ma un falò? Cioè, più che altro che non c'ho le armi. Ho finito le armi. Mmm. L'ho visto... Eh, l'avevo visto quello sopra di me. L'avevo visto che... Ah, oh, oh. Eh, la parata non la mette subito. Devo aspettare... È meglio rotolata invece della parata. È meglio rotolare. Sì. Molto meglio. Tu sei morto. Dov'è l'altro? Oh, cazzo. Con l'arco sei... Ho trovato con l'arco. Pezzo di merda. Ma quello lancia le... Ah, è lui. Amico mio, eh. Amico frizzolo. Grandissimo. Pezzo di merda. Sì, l'attacco di salto a culo. Non lo chiedo è successo. Va bene. Ci sono falò perché io ho... Oh, cazzo, un arco. Sì, ma io non so... Come si ripanono le armi? Boh. Guarda, dovete vedere. Giochino. Un falò? Per favore. Lo sapevo. Lo sapevo. Infami proprio siete. Aia. Ti voglio fare un backstab. Ti calmi, ti calmi, ti calmi. Eccolo qua. Bitch. È morto? No. Mori. Ok. E questo cos'è? Portone? Sì, grandissima il falò. Ah, che bella cosa da vedere. Tu chi sei? Che vendi? Ah, la bottega del fabbro. Sì, così li apriamo la bottega del fabbro cretino. Accendiamo il falò e riposiamo. Almeno si ripinano le armi. Perfetto. Bene, piccio. Per questo primo gameplay è tutto. Spero che ti sia piaciuto. Fammi sapere se dobbiamo continuarlo o meno. Anzi, spero di sì perché vi sta piaciendo il gioco. Comunque. Detto questo, vi ricordo di iscriverti al canale. Lasciare un mi piace. Fammi sapere cosa ne pensi. Qualunque cosa e vuoi aiutarmi. Se vuoi dirmi qualcosa. Perché penso che se hai già giocato il gioco forse impazzisci vedendole giocare. Perché non so niente. Detto questo, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao, ciao.